Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su The Lost Fear, iniziamo subito. È vero? Non può essere. Pensavo di essermi svegliato, ma questa non è la mia stanza. Che tipo di droga hai assunto? Ok, eccoci. Minchia, se questa era la tua stanza stavi messo male, eh. Fattelo dire. Oh mio Dio, raga, ma c'è troppo buio. Anche con la torcia non è che si vede un granché. Un'altra stanza vuota? Qual è il senso? Oddio. Perché mi trovo qui? Dove diavolo sono? È all'inferno probabilmente. Ma magari c'è qualche dettaglio che cambia ogni volta. Oppure devo guardarmi indietro? No, vi prego, aspettate. Oh. Non c'è più la stanza vuota, ma un corridoio con le stesse mura di quella stanza. Aspettate, raga. Mi sta mettendo un po' d'ansietta il fatto che si sentono dei battiti di cuore. Vuol dire che c'è qualcosa che non va perché sta cambiando l'ambiente. Siamo tornati al corridoio. Ah, vedete? Questo vaso prima non era rotto, quindi cambia un pochino qualche dettaglio. Conosci la persona dietro di te? Non voglio girarmi, no! Oddio, raga, devo girarmi. Vai, vai, subito, vai. No, non la conosco. Quale persona dietro di me? Non c'è nessuno. Devo rifarmi il corridoio al contrario. No, è un vicolo cieco. Quindi ora mi rigiro e forse spunta quella persona. Ah, ora si può avanzare! No, confermo, non lo conosco. Può avanzare! Dove sono ora? Dove siamo capitati, madonna? Ok, ho un labirinto qui. Una sedia. Giriamo la manopola. Quindi dobbiamo trovare queste manopole. Ah, lì ce n'è un'altra. Stiamo liberando questa via. Ecco la terza manopola. Credo sia l'ultima. Non dovremmo trovarne altre, in teoria. Facciamo che corro! Non ho paura di nessuno, non ho paura di nessuno, non ho paura di nessuno, non ho paura di nessuno! Una catena. C'è un essere lì su. Noi andiamo avanti. Non ci interroghiamo su quell'essere. Oh, oh, però lo fate apposta, cioè... Ma questo è un incubo, mi auguro. Non può essere la realtà questa. Ma dove sono? Ma che cavolo? Sembra una casa enorme, senza arredamenti. Oddio, però che cavolo di casa ha questi corridoi così. Oh, ma che cavolo è? Siamo in Stranger Things. Oh, un arredo. Un mobile che però non presenta nulla. Oh, c'è una scritta. I uccelli volano a nord in estate, a est in primavera, ovest in autunno e a sud in inverno. È un enigma che mi può servire. Nord. Est. Ovest. Sud. Perfetto. Abbiamo liberato il passaggio. Eh, ci sono altri corridoi. Ma di una via d'uscita, neanche l'ombra. Una porta rossa. Potrebbe accadere di tutto. È un corridoio rosso. Oddio, dà molto mood circo, eh. Il che mi fa ancora più paura. Questa porta. Mi sta invitando ad entrare? Che facciamo? Lo accontentiamo? Entriamo? Devo raggiungere quella luce? Ci sono sedie, sedie. Ah, ma c'è qualcosa qui a terra. Come ho fatto a non notarlo? Una chiave. E allora ora succede qualcosa. Vabbè. Vado, raga, io mi devo sempre preparare psicologicamente. Che dite? Ci facciamo un'altra corsetta? Vai. Per ora nulla. Ancora nulla, raga. Ora spunta. Però mi chiudono la porta. In faccia ho spuntato qualcuno dal corridoio. Ah! Hanno spento le luci. E qui è comparso un quadro. Va bene. Apriamo questa porta. Un corridoio. Stavolta verde. Andiamo. Andiamo! Lo sapevo! Era da troppo tempo che non spuntava questo bastardo. Andiamo. Andiamo! Di nuovo in queste stanze fredde, grigie, buie. Ma qual è lo scopo? Cioè. Esiste una via d'uscita o è veramente l'inferno? Cioè, forse è un'infinita tortura. Non esiste via d'uscita. Delle barelle. Altre barelle. Oh, di nuovo il loop. C'è un foglio a terra però. E' strano che mi piaccia il suono delle urla. E' strano che questo gioco non mi piaccia per niente. Vuoi sentirmi urlare? Se vuoi ti faccio sentire cosa ho in repertorio. Cosa è lì? Una barella? Ok, sono posizionate in maniera differente. Cos'è? Oddio, non capisco. Oddio, ma che sono? Sono una pedana. Attenzione, non dobbiamo cadere. Piovono teste. Altro che piovono polpette. Devo trovare qualcosa per rompere queste assi di legno. Vuol dire che devo andare da questa parte. È l'unica via possibile. Che dite? Corriamo un po'? Ci divertiamo? Sì, divertiamoci. Su, su, su. Su, 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 su. Mi faccia venire questa adrenalina così non mi spavento. Almeno cerco di non spaventarmi. Si è aperta questa porta. Continuiamo per questo corridoio. C'è una luce. Forse è l'uscita. Sì, manco per il cazzo. Ora mi giro e qualcuno mi spinge. Scommettiamo? Oppure qualcuno che mi tira giù? Cosa? C'è qualcosa che viene da... Gli abissi, eccolo. È la creatura che prima stava sul soffitto. Bella, molto carina. Una creatura veramente affascinante. Ci ho provato. Ho provato a svegliarmi. Ma ora sono uno di loro. Presto lo sarai anche tu. Oh, speriamo di no. Ah, affanculo, affanculo. Cosa? Ciao, il mio nome è Vasco Rocha. Oddio, spero di averlo pronunciato bene. Ho 13 anni e questo è un gioco che ho fatto in due settimane. Minchia, complimenti. Questo gioco solo in due settimane. Pensate in un anno che combina. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.